Storica firma Villagina. Nella giornata europea dei parchi, le sale ottocentesche della dimora Brianzola sono state animate dai 20 sottoscrittori del patto dei parchi. I presidenti delle aree protette lombarde nel cuore del parco Adda Nord hanno siglato un accordo in linea con il tema dell'Europark Federation 2022 e la natura siamo noi, ripensare, risanare, riconnettere. I macro temi del documento guardano lontano all'ampliamento della rete delle aree protette lombarde, alla promozione della biodiversità, alla valorizzazione del paesaggio, ancora il coinvolgimento sempre più attivo delle comunità locali. All'indomani della firma i presidenti si impegnano fin da subito a chiedere maggiori risorse economiche, a rafforzare la rete di collaborazione tra i parchi per imparare gli uni dagli altri e arrivare a una gestione ottimale di queste preziose aree. E in calce una chicca, simbolica certo, ma anche strumentale per attirare l'attenzione sull'importanza di tutelare i nostri polmoni verdi. I presidenti si impegnano a proporre una giornata regionale dei parchi lombardi ogni anno il 30 novembre per commemorare l'emanazione della legge degli anni 80 che situiva le aree protette. Ho immediatamente dato il mio pieno consenso al patto dei parchi 2022, dice Francesca Rota, presidente del parco Adda Nord. Sono convinta che solo mettendo in comune le conoscenze si possano raggiungere obiettivi più grandi e nel minor tempo possibile. Tra i punti che abbiamo sottoscritto, prosegue, mi piace mettere in evidenza quello riguardante la fruizione delle aree protette, affinché possano essere sempre più a misura degli utenti e i cenni alla cultura su cui il parco Adda Nord sta investendo molte risorse e all'educazione ambientale.